Lo sceicco del Qatar, Alibin Tameraltani, della famiglia reale del Qatar, ha incontrato nella sede della Confindustria siciliana il presidente degli industriali Antonello Montante, il vicepresidente Nino Salerno e un centinaio di imprenditori. Obiettivo? Selezionare le aziende da invitare a Brand Italy, il salone dell'Italian Style, che si svolgerà a Doha dal 10 al 12 novembre e che prevede, oltre incontri B2B, workshop e conferenze, la partecipazione di oltre 30.000 visitatori, tra buyer, dealer, imprenditori e rappresentanti della business community del Qatar e degli altri paesi del Medio Oriente. Sono onorato di essere in Sicilia, ha sottolineato lo sceicco Alibin Tameraltani. Sono qui per individuare opportunità di investimento nei diversi settori della produzione, dall'agroalimentare agli arredi, dalla green economy all'edilizia al turismo e sono certo che riusciremo ad avviare un proficuo rapporto di collaborazione. E alla domanda se la sua famiglia, che già controlla indirettamente Al Jazeera, possa essere interessata all'acquisto di Mediaset, lo sceicco ha risposto tutto è possibile, stiamo studiando, ma tutto è possibile.